Questo sforzo che tutti quanti facciamo, perché dobbiamo farlo tutti quanti, noi ci metteremo l'anima, tra l'altro ho chiesto agli archidetti di usare materiale di qua, la pietra di qua, tutto ciò che viene da questa terra. Il premondeante sarà usare e far capire che c'è una casa di accogliere, questo vorrei che coloro che arrivano qui pensino che ci sia una casa, che vengono accolti in una grande casa dove dietro ci sta una grande città e ci sta tanta gente che li può accogliere e ricevere. E' fondamentale anche il lavoro, voglio ringraziare tutte le autorità militari e istituzionali che sono qui, che si potranno fare per la sicurezza, perché questo è un punto fondamentale anche per noi, la sicurezza del porto è importantissima. Tra l'altro all'interno del porto è previsto un eliporto, che il richiesto si è scordato di dire, ma è un eliporto che si verrà sia alla città, sia a coloro che vorranno usarlo, ma sia anche per la sicurezza. E soprattutto credo che questo sia un porto che da una parte sia un porto verde e dall'altra dobbiamo dimostrare che in questa terra possiamo fare un grande patto di legalità e costruire delle cose con strasparenza e in modo tale che diventi veramente un fiore all'occhiello. Quindi vorrei veramente ringraziare il sindaco, ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, il RUP, non ha detto il nome, non ha detto curati, possiamo ringraziarlo che ha lavorato per tanto tempo a questo progetto e col quale tante volte ci siamo confrontati per cercare di fare il meglio. Allora voglio dire una cosa e questo lo devo dire, tutti coloro che si sono confrontati hanno sempre cercato di fare il meglio per il porto e il meglio per la città di Formio, questo devo dare atto a tutti. Quindi vi ringrazio di essere qui e spero fra un anno se le conferenze di servizi saranno veloci, ma che dipende non dal sindaco, tra l'altro due conferenze di servizi sono già state fatte, spero un anno qui e che il sindaco ci inviti alla posa della prima pietra. 36 mesi poi per farlo. Grazie segretore. Adesso le conclusioni sono affidate.